Volete il lento o la pettinata? Pettinata! Poi la pettinata Anche Roberto Al concerto degli ACDC Roberto ha scelto la pettinata Ripassatelo un'altra Proviamo, proviamo Allora potete scegliere tra un brano di Jimi Hendrix Io ho una cronologia di due giorni nel cervello Un brano di Jimi Hendrix O un brano di Hendrix Jimi Quale scegliete? Finchia, un intrattenitore nato Finchia, una cronologia di Jimi Hendrix Grazie a tutti 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 Grazie a tutti